La milizia si è impadronita del dirigibile di Stegg e ha allestito una torre di vedetta armata. A quanto pare è controllata da quel punto di comando centrale. Devo neutralizzarlo. Quel soldato ha un dispositivo in grado di individuare i miei sistemi in modalità detective. Se li uso troppo a lungo mi localizzerà e avvertirà gli altri. Castroparasita. No! No! Ricordate questa parte! Usa i fumatili per scappare quel bastardo adulto! No! 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 Se niente da fare qui sparpagliatevi e trovatelo! Un segnale e traccia di sorveglianza dappertutto! Ora circolgire! Dannazione! Segnale perso! Potrebbe essere ovunque! Un' scutata di Wortmi! No! Non sono duele di posti di scuola, ma noto! Dannazione! Svegliamo! No! No! È un' sacrofe! Ok, milizia neutralizzata. Ora devo disattivare la torre. Sono i dirigibili. Cosa hai scoperto? La planimetria dell'aeronave rivela un portello di servizio a cui potrebbe accedere dalla cima del velivolo. Il signor Steg pare determinato a proteggere la sua ricerca. Mi attenderei una sorveglianza stretta. Ti ringrazio. Lucius hai novità sull'infiltratore remoto? Credo mi servirà presto. Dovrebbe aggiungere chiaroveggenza ai miei requisiti professionali. Invio e software di decriptazione al dispositivo nella camera blindata del Wayne International Plaza. Potrà recuperarlo laggiù. Notic. Solltele al Solltele al Suggestimo Solltele al Spero che ammalvino la guardia nazionale, li faremo a pezzi. Che è successo al drone? Dai! Non c'è niente da fare qui! Non c'è niente da fare qui! Ascolti! Grazie a tutti. Chi ti ha addestrato? Sei bravo. C'è una torre di guardia davanti al commissariato. Devo abbatterla. Molto bene, sir. Sconfidare nel suo territorio è un gesto molto scortese. Attenzione! Le vaffanze! Pare che le celli del commissariato stiano diventando affollate. I sensori del drone sono momentaneamente disattivati, ma posso violarne uno alla volta. Quello precedente tornerà operativo. E' affetto! Aspetta la luce, aspetta anche la torreta. Ti vorrò sanguinare! Quando sarai morto, non riporterai nessuno. Sì! 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 No! Sì! Ah! Ti avevo quasi preso su quella nave da crociera, Vatman. Non mi sfuggerai ancora. La milizia ha una tor- Pre di guardia a Chinatown. Devo distruggerla per dargli una lezione. Secondo la scansione, questi uomini sono armati, Sir. Li distrugga con prudenza. Ho visto un corpo in catena. Questa città è meglio coperta da che a sé. Eh, Vatman! Inseguiamolo, forza! Aspettavo di averti a tiro, Vatman. Ma non dovevi prendere le sigarette? Maledizione! Abbiamo fatto la rapina apposta! Calma, alzate la mira e ricordatevi. È solo un ricco! Non l'avevo mai fatto prima. I comandi dicono che va tutto bene. Lo trollerò quando torniamo. E' impazzito! Ha neutralizzato il pilota! Uomo a terra verifico, copritemi! Dove è finito? Ai comandi del mitragliatore! Ti copro le spalle! Ti devi svegliare! Il bersaglio si muove, mi chiede aiuto! Granata! 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 L'abbiamo perso! Controlliamo i periti! Non c'è niente da fare per lui! Sparpehiamoci e vendichiamoci! Rapporto, qual è la situazione? Nessun nemico rilevato! Dove diavolo è? Oh, che cia... Oh! Tutto ok? Che cos'è? Uomo a terra! Di qua! Di qua! Da questa parte! Mi hai lasciato marcire in prigione, Batman! Con te farò di peggio! Ehi, credi che verrà di nuovo? Che la tua la vince! Almeno Ivy è morta! Niente più piante che distruggono blindati e mangiano bambini! Stamattina ci ho messo dieci mili! Ehi, mentre la passata sta corso dal Stamattina! Sai! Stamattina! L'ultima volta hai trattenuto il colpo decisivo Batman, avresti dovuto lasciare cicatrici. Hanno messo una torre di guardia su un edificio abbandonato che sovrasta il Perdition Bridge. Non basterà inchiodarmi. Questa è la mia città. Perchè coinvolgere tutti questi civili? Quello degli indovinelli e il nanobuercio? Sono due tante infine vaganti. Il bersaglio è qui! Il bersaglio è perso, ripeto, abbiamo perso le viste al bersaglio! Perchè coinvolgere tutti gli indovinelli. Perchè coinvolgere tutti gli indovini. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Abbassate le armi. Non lasciate le armi. Pesca. Oh, 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 oh. Combatti come un vecchio. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Grazie a tutti Sei un cacciatore Batman, un guerrigliero, sei bravo, ma questa è una guerra diversa Ancora qualche di VKO Chi ha fatto questo? È tardi per preoccuparsi di questo È stata una lunga notte, Batman Le vecchie ossa iniziano a dolere C'è qualcosa qui Ho visto qualcosa, lo so Credi di poter battere questi uomini? Ora hanno un vero comandante No 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. E potrò andare in pensione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.